Benvenuti alle news di Quotidiano Medicina, tutti i giorni le notizie di tutto il mondo per la nostra salute, il nostro benessere. Vediamo le notizie di oggi. Per un sesso felice no alla bicicletta ed ai cibi piccanti. Boom delle allergie alle erbe officinali, rischi anche con dentifrici e chewing gum. Dai pediatri stop ai telefonini ai bambini sotto i 10 anni. Dunque il segreto per ottenere performance sessuali molto soddisfacenti è legato anche a ciò che lui mangia e dal tipo di attività fisica. Occhio dunque a cibo e sport che hanno un'influenza diretta sulla resa sessuale al maschile. Il consiglio arriva dal congresso europeo di urologia che si è svolto a Stoccolma. Il decalogo degli alimenti per il sesso felice spazza via alcuni luoghi comuni, ad esempio il peperoncino da sempre considerato un alleato dell'uomo per la vita amorosa che può invece rivelarsi in molti casi un nemico. E' vero infatti che ha un effetto vasodilatatore e dunque porta maggiore afflusso di sanque ma spiegano gli specialisti si tratta di un alimento irritante per la prostata e l'irritazione porta ad una accelerazione dell'eiaculazione e dunque ad un danno per la sessualità. Fortemente irritanti, attenzione, possono essere i superaracolici, il lupolo e quindi la birra, i frutti di mare ed il pepe. Insomma un vero e proprio tocca sana per la vita sessuale, afferma l'esperto, si rivelano i cibi antiossidanti, il vino rosso, le verdure, lo zinco, il selenio e la vitamina C. Un grosso aiuto arriva poi dall'attività fisica ma attenti al tipo di sport come ad esempio la corsa, il calcetto e il tennis. Da sconsigliare invece le attività sportive di sforzi quali i pesi, bollino rosso vedete qui per la bicicletta che può rivelarsi dannosa per l'apparato genitale ovviamente quando si esagera. Cresce il consumo dei prodotti a base di piante medicinali in Italia ma aumenta anche il rischio di reazioni allergiche indesiderate e a volte poco conosciute. Al congresso nazionale della Società Italiana di Allergologia è stata presentata un'analisi completa di tutte le piante medicinali e delle relative reazioni avverse come le dermatiti da contatto. In particolare si è parlato di Achillea millefolium, Escolus hippocastanum, aloe africana e curcuma longa. Come accade con i farmaci? Anche queste erbe possono provocare reazioni allergiche. Lo stesso accade nel caso di gomme da masticare. Alle erbe, spiegano gli esperti, sono in grado di evocare risposte molto severe a livello della mucosa del cavo orale. Questi prodotti vengono normalmente usati per veicolare nicotina, scopolamina e per il trattamento della cinetosi. La cannella e la camomilla, ad esempio, possono essere presenti come fragranze anche in dentifrici e colluttori. Contenendo molte sostanze farmacologicamente attive, possono provocare anche reazioni avverse a carico dei tessuti orali, come piccole vesciche, ulcerazioni, esfoliazioni gengivali, cheratosi ed erosioni. Agli analgologi dicono di fare attenzione anche la cinicifuga racemosa, l'ipericum perforatum, alcitrus auransium. Tutte piante molto note e anche dagli effetti molto benefici, ma anche con effetti collaterali non prevedibili per chi soffre di intolleranze di cui però non è consapevole. Perdita di concentrazione, difficoltà di apprendimento, aggressività. Secondo i pediatri, telefonini e tablets, ma soprattutto i primi, andrebbero vietati sotto i dieci anni perché l'uso si sta trasformando sempre più in un abuso e gli effetti nocivi delle onde elettromagnetiche per la salute sono sempre più evidenti. Sono le conclusioni a cui è giunta la società italiana di pediatria preventiva e sociale. L'Italia, dicono i pediatri, si colloca al primo posto in Europa per numero di telefonini posseduti e l'età media dei possessori diminuisce sempre di più. Trattandosi di piccole ricce trasmittenti che, in particolare per i telefonini, vengono normalmente tenute vicino alla testa, all'orecchio, durante le comunicazioni, gli effetti nocivi per la salute sono sempre più evidenti, alcuni legati agli effetti termici. L'interazione di un campo elettromagnetico con un sistema biologico provoca aumento localizzato della temperatura e quando le esposizioni sono molto intense e prolungate possono superare il meccanismo di termoregolazione, portando alla morte le cellule con la necrosi dei tessuti. Accanto all'aspetto biologico c'è poi anche quello psicologico. Nella nostra società e fra i giovani, con droga, alcol e fumo, un posto predominante lo ha conquistato anche la dipendenza da telefonino, con danni gravissimi sullo sviluppo psichico e sociale. E vi ricordo sempre che potete rivedere tutti questi video, i video di Quotidiano Medicina, i focus di approfondimento e le notizie, le news, andando su YouTube e anche su Google, scrivendo le tre parole Quotidiano Medicina Playlist e appariranno tutti i video aggiornati con i loro titoli, con alla destra le icone, con date e argomenti dove è possibile trovare sempre gli argomenti che si cercano. Bene, anche per oggi per le notizie è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e linea alla regia.